Credi che tutti siano quello che dicono di essere? C'è un disertore. Chiede di collaborare. Nessuno meglio di te sanno usare un impostore. Oggi un agente russo arriverà a New York per uccidere il presidente. Quello vende fumo. Lascia perdere, Ed. Il nome dell'agente è Evelyn Salt. Io mi chiamo Evelyn Salt. Allora tu sei una spia russa. Dov'è, papi? Ma tu sai chi è questa donna? Quello che ha fatto per questo paese? Il protocollo è chiaro. La mettiamo dentro o la facciamo fuori? Eccola! Salt! Sono innocente! Qualcuno vuole incastrarmi! Voglio solo ritrovare mio marito! Salt! Magari Salt è quello che dice di essere. I magari li lascio a te. Io devo prenderla per scoprire quello che è. Presa. Lei era in vantaggio. Perché non ha sparato? Qui c'è sotto qualcos'altro. Se diceva la verità, si scavenerà il finimondo fra poco. Credi che tutti siano quello che dicono di essere?